E' stata denominata operazione furbo e più furbo, quella condotta dai carabinieri che ha portato all'arresto di due ragazzi. Si tratta del 22enne Vincenzo Mancani, meccanico residente a Calcinelli di Saltara e di Luca Baci, agricoltore 34enne di Orciano. I giovani amici avevano deciso di studiare un piano e di uccidere due persone per risolvere velocemente i loro problemi affettivi ed economici. Quello che ha sconvolto gli inquirenti è proprio questo, per loro progettare un omicidio sembrava fosse la cosa più normale del mondo, avevano un obiettivo e dovevano raggiungerlo. La storia è iniziata con una 57enne di Calcinelli, colpevole secondo Baci di ostacolare i suoi progetti amorosi con una 22enne amica della donna, così quest'ultimo ha ben pensato insieme al complice di tagliare i freni della sua auto. Loro ritenevano fosse di intralcio, di fatto non lo era, era la ragazza che utilizzava la 57enne come alibi per resistere alle avanze dei ragazzi. La vittima dopo una serata trascorsa in un locale di Monte Maggiore al Metauro è salita sulla sua vettura, una Lancia Ypsilon. Al primo incrocio però si è accorta di avere un guasso ai freni, superato lo spavento, è ingranato la prima marcia e a bassa velocità è tornata a casa. Quando poi il meccanico a cui si è rivolta ha scoperto che non si trattava di un'avaria ma di un sabotaggio, le ha consigliato di rivolgersi ai carabinieri. Una volta andata alla stazione di San Giorgio di Pesaro per spiegare quanto accaduto, sono partite le indagini. Da qui è emerso che dieci giorni prima Baci e Mancani erano andati in caserma per segnalare che una donna del posto, dopo essersi ubriacata, guidava pericolosamente a Zizzag. Il loro intento in realtà era quello di giustificarne un eventuale incidente mortale. I sospetti nati da questi indizi hanno portato i militari a porre sotto controllo i cellulari dei malintenzionati, scoprendo che amareggiati per il piano non andato a buon fine, si stavano organizzando per uccidere a colpi di martello un anziano ottantenne, la nonna materna di Mancani. Perché con l'eliminazione della nonna si sarebbe liberato il lascito ereditario, che era l'obiettivo finale. L'omicidio doveva essere eseguito da Baci, tant'è che nel portafogli dell'amico è stato trovato un assegno di 1500 euro a lui intestato. Poi si è scoperto che era pure falso e quindi non avrebbe nemmeno potuto intascare la somma pattuita. Addirittura avevano studiato anche la fuga all'estero dopo il crimine. La minaccia dell'assassinio ha fatto scattare degli appostamenti a casa dell'ottantenne, del tutto ignara della situazione. Quando invece i due si sono accorti dei carabinieri, Baci ha iniziato ad avere paura e si è tirato indietro. Problemi invece non ce n'erano per il nipote della pensionata, che al telefono molto serenamente aveva affermato di aver già contattato una persona di Ancona che per 500 euro avrebbe ucciso la nonna. A quel punto è stata firmata l'ordinanza di un custodia cautelare per limitare la loro pericolosità. Queste indagini comunque sono stato frutto anche di una grande collaborazione? Assolutamente sì. Le indagini hanno dei risultati quando avvengono appunto con la collaborazione di più comandi. Nel caso specifico la stazione di San Giorgio di Pesaro, la stazione di Saltara e soprattutto il fondamentale supporto terchino del nucleo operativo e radiomobile di Fano. Grazie a questa sinergia tra le forze dell'ordine ora gli esecutori si trovano dietro le sbarre. Sono incriminati per il primo omicidio, ovvero il tentato omicidio della 57enne e la procura sta indagando anche per il secondo omicidio, omicidio che non è stato portato al termine per l'intervento dei carabinieri. Ieri si è svolto ricorso al riesame per la loro scarcerazione, ma i giudici hanno riconfermato la cattura e il carcere.